Luca Monti, il risultato è quello che ci si aspettava, è arrivato però in maniera piuttosto difficile. Veramente anche le altre due di campionato contro di loro, di partite facili non le abbiamo mai fatte. La partita in casa, lo sapete tutti com'è andata a finire, la partita che abbiamo giocato qua, altri 2-7 ai vantaggi, sempre battaglie. Quando qua con loro si diminuisce un attimo l'intensità e si gioca e si comincia a giochichiare un pochino, diventa assolutamente complicato perché sono una squadra che difende, mura e non lascia cadere assolutamente niente. Quindi è una squadra molto grintosa, molto bene organizzata, se li facciamo giocare diventa complicato giocare contro di loro. Nel secondo set avete commesso però qualche errore di troppo. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, ma specialmente al servizio abbiamo ottenuto poco, dal nostro servizio è sbagliato molto. Quindi questo è sicuramente una cosa negativa. Infatti a un certo punto a un time out ho chiesto a qualche giocatore di battere il salto flott, di non avere assolutamente nessun rimpianto su questa battuta che può mettere assolutamente in difficoltà. E così è stato perché abbiamo recuperato anche dal 24 al 22. È solo una battuta tattica con il buon muro che ci possiamo permettere. Possiamo anche battere tatticamente, non solo cercare il punto. E oltretutto possiamo dare la possibilità ai nostri battitori in salto, vedi Max Holt, Fei e anche lo stesso Zlatano che ha battuto piano, ma sempre nel posto giusto di dar fastidio a loro. Adesso è lunedì avete il match point in casa. Sì, sappiamo che sarà un'altra partita non semplice, sappiamo che siamo noi che dobbiamo impostare il gioco, sappiamo che dobbiamo tenere il nostro livello di gioco molto alto e sappiamo anche che dobbiamo recuperare le forze di questa partita anche dal punto di vista mentale, perché secondo me dal punto di vista mentale abbiamo sprecato molto qua.